Durante controlli nel settore della sicurezza alimentare, in particolare in alcuni supermercati in località turistiche, i carabinieri del Nassa di Padova hanno ispezionato anche un negozio della catena Milkov, una rivendita al dettaglio di genere alimentari di Verona in via Tevere, dedita al commercio quasi esclusivo di prodotti di origine estera. I militari a fine giugno, dopo aver rilevato una confezione con la presenza di acetone e di due timbri, avevano voluto andare a fondo, scoprendo così che sui prodotti preconfezionati esposti in vendita, scaduti in alcuni casi anche da alcuni mesi, erano state attaccate delle etichette fasulle. Al termine del controllo sono stati sequestrati 1100 kg di alimenti tra formaggi, salumi, conserve, bevande e scatolame vario, sono stati sequestrati anche i timbri e le nuove etichette post datate. Tutta la merce è stata poi sigillata e sistemata in una cella a frigo, il titolare, un cittadino di origine romena, è stato denunciato dalla procura della Repubblica di Verona per frode in commercio. In Italia la catena Milkov, fondata da un'imprenditrice romena, conta punti vendita anche a Padova, Torino, Roma e Firenze. Grazie a tutti.